buongiorno e buona giornata e buona settimana a tutti voi cari amici del vostro sottoscritto nicola de lucia bellissima straordinaria partita e derby tra inter e milan terminato per 4 a 2 in favore dei neurazzurri i rossoneri passano in doppio vantaggio nel primo tempo con i gol di rebice ibrahimovic nel secondo arrivano ben quattro redi dell'inter prima con brozovic vecino devrai e lukaku vittoria dell'inter quota dei bookmaker tra 205 e 206 la classifica scusate la classifica vedi nerazzurri in testa con 54 punti la seconda vittoria di fila nelle ultime cinque partite primo a posto con 54 punti il milan invece decima quota 32 prima sconvista nelle ultime cinque partite l'inter affronterà la lazio tra sei giorni allo stadio olimpico lazio terza a 53 punti il milan invece affronterà il 17 febbraio il torino tra le mura amiche ricordiamo il torino è 13 e 13esima quota 27 punti in crisi nerissima con quattro sconviste nelle ultime cinque partite bene chiudiamo ricordando appunto che l'inter batte rimonte al milan per 4 a 2 in un super super derby ciao 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 ciao